o ragazzi avete visto passare di qua qualcuno perché mi ha sparito il notebook da sopra al tavolo dovevo fare una recensione boh me l'avranno rubato penso comunque proviamo a vedere di farlo riapparire almeno un altro con un schiocco di vita eccolo qua siamo riusciti con uno schiocco di vita a far riapparire il notebook che mi avevano fottuto ma comunque quello lì avevo la telecamera acceso penso di riuscire a beccarlo ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale per un nuovo video allora oggi abbiamo un notebook della dell qui e ho deciso di presentarvi questo notebook perché molte persone mi hanno chiesto un consiglio su che notebook acquistare per cominciare l'università quindi un notebook universitario tra virgolette universitario un notebook per studenti che vi permette anche di fare strada cioè nel senso non notebook economici che magari vi tocca sostituire nell'arco di un anno o due perché inizia ad essere lento perché il processore troppo è scarso quindi ho deciso di fare una recensione di questo bellissimo notebook voglio ringraziare anche trend tecnologie che mi ha dato la possibilità di avere questo notebook per appunto fare una recensione sotto troverete tutti quanti i link per poi informarvi contattarli per chiedere prezzi e informazioni di cui avete la necessità sapere comunque io adesso vi andrò ad elencare un po di caratteristiche di questo notebook allora come potete vedere il notebook è un dell serie latitude 3520 ha un processore i5 sensore di impronta digitale che funziona anche da tasto d'accensione windows 10 pro aggiornabile a windows 11 8 giga di ram 512 giga di ssd scheda grafica non è dedicata è una scheda grafica integrata quindi su scheda madre che è un intel processore intel i5 di undicesima generazione più precisamente è il 1135 g7 attenzione è in 240 gigahertz schermo 15 pollice 6 in ips full hd e vi posso assicurare che in prestazioni mi ha lasciato senza parole attenzione ripeto è per un uso universitario non per grafica non per editing video non per autocad o programmi che richiedono caratteristiche molto elevate si parla di pc abbastanza costosi e non è questo il caso quindi vi ripeto questo qui è a uso scolastico universitario può essere utilizzato anche in ufficio ovviamente per un uso office non c'è nessun tipo di problema i materiali con cui è costruito vi posso dire che è plastica perché è plastica ma una plastica veramente buone come potete vedere qui sopra è opaca eccola qui i bordi sono lucidi adesso non so se riuscite a vederli ma sono lucidi hanno ancora la pellicola su perché io l'ho semplicemente acceso nella scatola trovate libretto di istruzioni carica batterie e basta e il notebook vabbè però quello si sa che c'è non è un problema webcam incorporata eccola qui con sportellino ovviamente per chi c'è le paranoie ad essere spiato di chiusura e apertura obiettivo touchpad il touchpad è abbastanza grande devo dire ed è anche molto sensibile risponde bene i comandi e non ha nessun nessuna problematica a livello a livello di scatto o quant'altro cosa che ho riscontrato in altri notebook e di altre marche diciamo questo qua mi ha mi ha davvero stupito tastiera ad isola a retroilluminata perché ragazzi questo qui ha la retroilluminazione anche nella tastiera vediamo se riesco a farvela vedere ecco qui la tastiera retroilluminata ai lati troviamo un type c un usb normale e un hdmi e connettore di ricarica dall'altra parte troviamo slot sd jack cuffie due port usb e una ethernet il raffreddamento di questo notebook è molto similare al raffreddamento che vi avevo già fatto vedere su il huawei serie di 15 quello grigio vi ricordate che ho portato nel video ma comunque ve lo lascio qui sopra in nelle schede e come potete vedere c'è una feritoia per la respirazione del notebook diciamo per il raffreddamento del notebook frontale ok e la griglia apposta nella parte bassa quindi nel back nel retro del notebook c'è la feritoia per far respirare il pc ovviamente ci sono i due speaker audio e adesso non so se voi riuscite intravederlo vediamo se riesco a farvelo vedere ma sotto qui si può intravedere la ventola di raffreddamento altra cosa che mi ha colpito questo di questo pc è la velocità monta un ssd in m2 da 5 e 12 e porca miseria posso assicurarvi che è una cosa veramente strepitosa c'è la velocità che ha mi ha stupito adesso io vado ovviamente nel mio canale youtube a farvi vedere eccolo qui salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale youtube e audio allora oggi vi faccio vedere cosa è successo a questa console xbox one s adesso siamo in hd passiamo nel falso 4k mi ha detto che gli è caduto un bicchiere d'acqua sopra quindi hanno pulito alla buona molto alla buona girandola sotto sopra e sbattendola in modo tale che uscisse tutta l'acqua però come potete vedere lo scroll della pagina si fa con due dita nel touch io l'ho smontata tutta quanta ed è un disastro eccezionale ragazzi porto in full hd che questo qui alla risoluzione massimo in full hd ingrandisco lo scarmo come potete vedere si vede benissimo ecco qui come si visualizza su questo display ripeto display da 15 pollici e 6 questo è un gameplay che ho fatto qualche giorno fa su twitch ovviamente ho recuperato i momenti salienti comunque l'audio è perfetto bassi alti si sentono veramente in maniera meravigliosa ora ragazzi non voglio annoiarvi di più vediamo se trovo un video in 4k da farvi vedere così vedete che anche quello comunque gira a meraviglia buongiorno buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale allora oggi andremo a smontare questo video in 4k 250 g4 per sostituire l'hard disk con l'Ssd ora procediamo con lo smontaggio questo qui è un video in 4k ragazzi e potete vedere che è scorrevolissimo non ha nessun problema quindi riusciate a stare le dicerie che i processori i5 o i3 fanno schifo allora e qui c'è un capitolo enorme da aprire perché non è sempre così è così su macchine di basso costo ma non è così su macchine che hanno un costo superiore a quello che potete trovare in giro però ci sono vi posso garantire i3 ora lo stoppo vi posso garantire che ci sono dei processori i3 che sono paragonabili a un i7 e ad un i9 non lo dico io lo dicono i test che sono stati eseguiti quindi sì su una certa cifra su una certa spesa ovviamente un i3 o un i5 sono processori eccezionali non per forza bisogna avere un i7 o un i9 è ovvio che molte volte ci si trova a paragonare il costo di un notebook con i5 con un costo di un notebook con l'i7 e la differenza è minima ma ci sono i suoi perché quindi ragazzi io adesso con questa recensione breve perché sapete che a me piace fare recensioni sintetiche per farvi capire la qualità di un prodotto io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video mi raccomando se avete qualche domanda scrivetemela sotto nei commenti guardate anche la descrizione perché nella descrizione trovate tutti i link dell'azienda che mi ha fornito questo notebook in modo tale da poterla contattare e chiedere maggiori informazioni o dettagli per i prezzi seguitemi anche su twitch di solito le live le faccio alla sera verso le 8 e mezza 8 8 e mezza 9 e vi lascio il link anche di twitch e noi ci vediamo in un prossimo video e ricordatevi di supportarmi con un bel like o iscrivendovi da questo del è tutto quanto e anche dalla mia fotocopia adesso vado a cercare chi me l'aveva fottuto all'inizio questo notebook e noi ci vediamo in un prossimo video eccolo il pezzo di fango quello che mi ha rubato il notebook eccolo qui allora ciao 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 Grazie a tutti.